Ciao, sono Michele, faccio parte del Team Texa Edu. Se vi iscriverete al corso, faremo insieme off-highway D3 in merito ai sistemi post-attamento e gestione motore di Deutz. Cos'è che potrebbe bloccare la rigenerazione di un filtro antiparticolato? Riconoscete questo modulo adi-blue? Riconoscereste i vari componenti che ci sono all'interno? Sapresti indicarmi quali sono i componenti da controllare per una manutenzione ottimale del modulo adi-blue? Sapreste cosa fare nel caso in cui c'è un mezzo depotenziato o bloccato, tier 4 final o stage 5? Bene, se queste domande non sono state chiarissime, o meglio, non sapete dare una risposta al 100%, venite al nostro corso, vi aspettiamo!